Questo va mollato l'alto, lo portiamo a piede d'albero, facciamo un urino, poi ci vorrebbe un gancetto per tenere, invece il basso non tiri, il basso rimane in posizione, la ricazziamo e siamo puliti, mentre questo qui, niente, lo lasci così, passa dentro, non c'è una gas, passiamo fuori, no, no, quello lasciamo, e vabbè, faccio la cazzo, vabbè, stringilo, non va mai neanche di vista, una volta che lo usano, eh ma stringere c'è poco male, fai un altro collo, allora devi stare attento che non si sciogga, se no devi fargli un'altra gassettina, forse ce l'hai da, se no, devi fare un gancetto, magari faccio le tue battute, adesso dovrei fare un bravo a fare le tue battute, guarda questa, dai, sì, sì, anche io l'avevo imparato quando abbiamo fatto nella barca, bella, questa è proprio fatta bene, li hai fatti entrare tutti dentro, però ci vuole, l'ho fatta un bene, l'ho fatta un po', un ago, ci vuole un ago grande per entrare dentro, no, è la corda questa qui, questa non la vuole, questa è da inima, questo è il peggio del cavo d'acciaio, guarda questa, anche qua c'è un po' di pitture, lo è un po' di pitture, Unterschiede a tutti, effettivamente,